Se mi permettete, ma questo è un mio giudizio molto personale, qualcuno potrà dissentire, per me continuare con questo politicamente corretto è un errore vicidiale, perché a forza di eseguire il politicamente corretto uno si sente sempre incatenato in qualche modo e non riesce in qualche modo ad esplodere. E' così. E basta, veramente. Guardate, se continuiamo così, con questo politicamente corretto portato all'esasperazione, noi avremo dei grossi problemi in sede di sceneggiatura, faremo meno ridere, faremo meno ridere, avremo meno battute, non si può darvi quello perché si offende quello. Ci sono delle cose, francamente, sulle quali non sono d'accordo e anche tanti miei colleghi incominciano a vendere un po' le palle piene che sto politicamente corretto, perché sta diventando un po' una patologia. Basta, per cortesia, basta.